La facoltà di medicina di Perugia ha la sua biblioteca biomedica, 85.000 volumi contro i quasi 36.000 della vecchia biblioteca smembrata nei vari dipartimenti. Vi sono confluiti anche fondi privati donati alla facoltà, tutta la struttura è cablata e dotata di wireless, è inaugurata anche la mensa che potrà ospitare 170 persone per tre turni. Grazie a tutti.